Io sfido chiunque a vedere che leccano il petto del mio fidanzato, anzi forse io sono fin troppo buona che ve ne sto dicendo solo quattro, non so se tutte avrebbero reagito allo stesso modo. A parte questo amore mio Mirko ti prego non cadere in questi giochetti che non ti appartengono, confido in te e difendi la nostra relazione perché abbiamo una vita bellissima che ci aspetta fuori. Ultima cosa importantissima, Angelica te l'ho detto di persona, te lo ripeto qui per l'ultima volta, smettila di stigarmi, stai al tuo posto, è troppo facile farlo quando non mi hai davanti, quindi basta. Amore ti amo, mi manchi tantissimo, vorrei stringere e un bacio a tutti. Allora partiamo da Mirko, poi vado da Angelica. Mirko, ho visto che quando Greta ha detto amore mio, mi raccomando che ci aspetta una vita lunghissima davanti, non è che avessi una faccia proprio che brillava di entusiasmo. Alfonso, io non sono un che sprizza, aspettavo la fine del video che non si sa mai, aspettavo la fine del video perché passavamo da cose positive a cose meno positive, quindi aspetto sempre che, no, su quello sono contento, su altre cose un po' meno, però dai, va bene. Grazie. Grazie a tutti